Per consentire la trattazione questo mese in aula della legge di riforma del sistema regionale per le autonomie locali, la conferenza dei capigruppo del Consiglio regionale ha modificato il calendario della sessione di novembre e ha fissato anche il programma delle singole giornate. La quinta commissione va a disposizione per l'approvazione del disegno di legge, provvedimento nel pomeriggio di giovedì venerdì mattina e lunedì 17 novembre. Il Consiglio regionale, che inizialmente avrebbe dovuto riunirsi dal 18 al 21 novembre, la prossima settimana lavorerà giovedì 20 con all'ordine del giorno le risposte dell'aggiunta interrogazione e interpellanza dei consiglieri, una variazione del suo bilancio interno, una proposta di legge a un unico articolo sull'attività venatoria, tre emozioni, partito democratico, patto saracchiani, padua nel regime commissariante del Consorzio Assua Corno, famiglia quale nucleo naturale fondamentale della società e un voto alle Camere sulla disciplina delle unioni civile. La legge di riordino del sistema regione e autonomi locali sarà all'attenzione dell'Aura lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 novembre. In quest'ultima giornata è previsto l'inizio dei lavori con il question time di capigruppo, non è deciso che se necessario si completerà il provvedimento sugli enti locali e alla sera i lavori si portaranno a portare fino ad oltranze. I provvedimenti saranno industrati nella giunta alla Commissione, giovedì 27 novembre, lo stesso giorno e venerdì saranno valutate le parti di competenza tra le altre commissioni e parliamo a questo punto della finanziaria, della previsione per il bilancio del 2015. La Commissione tornerà a occuparsi del provvedimento lunedì 1, martedì 2, mercoledì 3 dicembre e saranno sempre all'attenzione del Consiglio regionale dal lunedì 15 a giovedì 18 dicembre, giorno in cui se servirà è previsto che l'Aula prologhi sui lavori ad oltranza fino all'approvazione della finanziaria del 2015 che già nei giorni scorsi l'assessore delle finanze Peroni aveva dichiarato che il grosso moto era in linea con quella dello scorso anno.